ecco guardate che bellissimo contrasto tra moderno e antico qui nella lower Manhattan ai piedi dei grandi grattacieli in stile internazionale del financial district al numero 7 di state street c'è questa casa in stile georgiano federale accanto c'è la chiesetta della nostra signora del rosario al cui interno c'è il santuario di elisabeth anseton che è stata la prima santa americana canonizzata nel 1975